Speciale Sanremo 2023 con Stefano Fisico Su Radio Roma questa settimana si parla di festival grazie allo speciale Sanremo 2023 che oggi ospita Mr Rain Mattia come stai? Molto bene, sono super felice, sono carico di salire sul palco, non vedo l'ora Sarà un'emozione come la sera scorsa, è bellissimo, è tutto bellissimo Senti, allora da giornalista musicale, tu sai che comunque io ci tengo a te particolarmente ti chiedo che supereroe vorresti o dovresti essere per superare le critiche eccessive di alcuni colleghi che non hanno premiato il tuo brano, a differenza però del popolo sovrano e della rete che dove in realtà è esploso Ma dovrei essere semplicemente me stesso perché mi basta essere me stesso, tutto qua a me basta leggere tutti i messaggi che mi arrivano, i video, leggere i commenti la gente si è emozionata e questo per me è già una grandissima vittoria Speciale Sanremo 2023, su Radio Roma, perché Sanremo è Sanremo Questa è Radio Roma con lo speciale Sanremo in compagnia di Mr Rain Allora ti chiedo, hai superato la tua prima discesa dalla scala dell'Ariston che voglio dire sappiamo cosa può comportare Allora, cosa ci dobbiamo aspettare adesso in termini di performance e di un po' più magari di tranquillità dopo che l'hai fatto già la prima volta Ma allora, la linea guida sarà comunque la prima sera sicuramente cercherò di comunque, essendo più a mio agio, avendo già ho fatto già la prima serata quindi sono già non più tranquillo ma comunque so già che cosa mi aspetterà questa serata che cosa mi troverò questa sera sul palco e ovviamente cercherò di dare 100.000 volte in più di me stesso ogni volta sarà come se fosse l'ultima Speciale Sanremo 2023, su Radio Roma I suoni e le canzoni del festival le ascoltate su Radio Roma in questo speciale Sanremo che ha come ospite quest'oggi Mr Rain Allora, Mattia, nella serata delle cover hai deciso di interpretare un pezzo pazzesco della musica italiana che è quello dei Luna Pop con qualcosa di grande e lo farai insieme a Tiberio Allora ti chiedo intanto perché questo brano e perché questa scelta di Tiberio? Allora, qualcosa di grande perché io sono cresciuto con questa canzone sono del 91 e mi ha accompagnato un po' in tutto il mio periodo da ragazzino la crescita e quindi è una canzone che porto nel cuore per me è un'opera d'arte Ho scelto Tiberio perché ho avuto modo di conoscerlo circa un anno fa più o meno quest'estate a un live siamo entrati subito in sintonia siamo molto simili come persone ha un mondo molto affine per quanto riguarda la musica e per me è una persona d'oro quindi sono fiero e onorato di portarlo sul palco con me Speciale Sanremo 2023 su Radio Roma perché Sanremo è Sanremo È Mr. Rain l'ospite di questo speciale Sanremo 2023 e allora su Radio Roma ovviamente a proposito di Radio Roma io ti chiedo se hai previsto una serie di live e se verrai o di in store e se verrai nella capitale e se mi racconti un aneddoto riguardante a Roma proprio per magari un live o un in store Allora, i live partiranno ad aprile a giugno sarò a Roma e non vedo l'ora perché di Roma è un bellissimo ricordo l'ultima volta che ho suonato a Roma ero in apertura a Mecklemore che io amo follemente ricordo bene la nostra diretta puoi capire la mia felicità e ho un ricordo bellissimo di Roma non vedo l'ora di tornarci quindi a fine giugno sarò lì e il tour continuerà spero per sempre perché il live è la dimensione è la cosa più bella di questo lavoro incontrare le persone e cantare tutti quanti insieme è fantastico ovviamente quest'anno sto lavorando anche a un nuovo disco quindi incrocio le dita ciao, sono Mr. Rain e questa è Radio Roma Speciale Sanremo 2023 con Stefano Fisico